Gian Maria Sainato all'Isola dei Famosi Chi è, età, fidanzato, foto, Instagram. Il noto modello e influencer Gian Maria Sainato ha deciso di partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023. C'è grande attesa per l'inizio dello show condotto da Ilari Blasi. Gian Maria riuscirà a superare tutte le sfide che incontrerà sull'isola. Ecco chi è tutto quello che sappiamo su di lui. Gian Maria Sainato è nato nel 1995 a Sapri, una piccola cittadina che si trova fra Salerno e Potenza e oggi ha 27 anni. Dopo il diploma in economia aziendale decide di trasferirsi al nord Italia per avere più possibilità lavorative. Sceglie come città Milano e qui inizia a lavorare come modello nel 2012, costruendosi così una carriera da influencer e fashion blogger. Ha debuttato anche sul piccolo schermo, viene ancora ricordato come il volto di riccanza. Un noto programma andato in onda su MTV che l'ha visto insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Non solo, ha anche svolto il ruolo di opinionista per Pomeriggio 5. Il giovane influencer ha fatto coming out molti anni fa, con grande gioia e naturalezza. Ha dichiarato, non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale. O direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, non mi sono mai fatto problemi in merito. Credo che fare coming out da parte dei VIP sia doveroso per dare il buon esempio. A questo punto la domanda sorge spontanea, chi è la sua dolce metà? Questo rimane un segreto. Perché non ha mai voluto confessarlo per proteggere il suo amore dalle telecamere. Nel 2019 ha confessato, amo un uomo da più di un anno e spero sia per la vita. Lo sposerei anche domani. Gian Maria Sainato è stato confermato come uno dei concorrenti che farà parte alla nuova edizione dello show L'Isola dei Famosi condotto anche questa volta da Larry Blasi. Riuscirà a superare tutte le sfide che gli metterà davanti l'isola delle Honduras. Sperduta nell'oceano? Non lo sappiamo, intanto potete seguirlo sul suo profilo social con cui vanta 551.000 followers. Sperduta nell'isola dei Famosi condotti. Sperduta nell'isola dei Famosi condotti.